buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com buongiorno e buona settimana siamo nel periodo tra il 7 e il 13 novembre 2022 anche questa settimana come la settimana scorsa non ci sono eventi astrologici particolarmente rilevanti i pianeti stanno proseguendo il loro corso l'unico evento veramente rilevante notevole di questa settimana è la luna piena che avviene martedì 8 novembre alle 12 e 03 accompagnata sempre in quel momento da un eclisse lunare quindi avvenendo di giorno ovviamente l'eclisse sarà forse meno visibile da osservare ricorderete che due settimane fa nel momento della luna nuova c'è stata l'eclissi di sole e l'eclissi di luna seguono sempre l'eclissi di sole l'eclissi di luna viene quando è la terra a frapporsi tra il sole e la luna e quindi proietta la propria ombra sulla luna un po' come se la terra facesse da terzo incomodo tra il sole e la luna nel loro gioco un po' rimpiattino che in questo ciclo in questo ritmo di lunazioni quindi una nuova luna piena la luna è nel toro quindi ovviamente è opposta al sole nello scorpione e la cosa interessante di questa luna piena è che la luna sarà congiunta a urano e opposta a mercurio sole e anche a venere quindi sarà una bella un bello scontro di poteri diciamo così e mi sembra di poter dire che rappresenterà un po' il fulcro il culmine delle tensioni che si sono accumulate sto parlando ovviamente a livello astrologico in questo periodo se vi ricordate abbiamo parlato del quadrato tra saturno e urano quello che è un po' diciamo la causa astrologica delle tensioni della crisi economica abbiamo parlato del quadrato tra marte e nettuno e anche tra marte e giove che è andato a dare manforte a nettuno in questo momento alla fine dei pesci e quindi sono tutte tensioni che si sono accumulate che abbiamo visto appunto anche verificarsi manifestarsi a livello globale nel mondo nelle tensioni che stanno diventando sempre più forti ebbene questa luna piena sarà forse il culmine di queste tensioni ma mi sembra di poter dire che dopo cominceranno a stemperarsi perché si è passato un po' oltre il punto preciso per esempio della quadratura tra saturno e urano e anche tra quella tra marte e nettuno e quindi dovrebbe stemperarsi un po' la tensione speriamo proprio che sia così e che quindi alcune cose finalmente comincino a scalare invece che a fare la famosa escalation di tensioni belliche eccetera eccetera spero proprio di avere ragione e speriamo che il cielo ci assista mi spiace di deludere chi magari si aspettava di nuovo un'altra meditazione sulla luna piena ma come due settimane fa non ho molto tempo in questo periodo per prepararla e quindi dovrete aspettare alla prossima luna nuova per sentire la meditazione sulla luna in ogni caso la meditazione potete farla sempre da voi riflettendo sui simboli ovviamente proposti dallo scorpione e dove si trova il sole e dal toro dove si trova la luna quindi è una dialettica è un confronto tra luce e buio proprio come ci propone il periodo stiamo sprofondando nel buio dell'inverno stiamo andando incontro sempre di più all'allungamento delle ore di tenebre diciamo di buio ma queste tenebre non devono farci paura perché sono le nostre tenebre interiori e in fondo noi nasciamo nel buio nel ventre materno no in questa specie di nido dove tutto è buio intorno a noi il buio è quello della terra dove c'è la rigenerazione quindi è un momento per approfittare di rivolgersi all'interno di noi stessi e appunto rigenerarci e trovare dentro di noi quella spinta quella luce interiore che ci permette poi di andare avanti di crescere di rinascere e questo è un po anche il tema che ci propone questa luna piena questo mese vediamo ora dove si trovano tutti i vari pianeti nella loro rincorsa del sole e vediamo come vi ho detto prima lo stesso sole mercurio venere sono scorpione e sono più o meno nella decade centrale dello scorpione quindi nella seconda decade e ovviamente a fine settimana venere sarà già entrata nella terza decade e anche mercurio mentre il sole si affaccia sulla terza decade dello scorpione poi abbiamo plutone sempre a 26 gradi del capricorno quindi sempre lì ovviamente plutone è il pianeta più lento e quindi rimane quasi fermo per parecchio tempo sempre sugli stessi gradi saturno è in acquario a 18 gradi quindi alla fine della seconda decade nettuno a 22 gradi dei pesci e giove a 29 gradi sempre dei pesci questi pianeti sono retrogradi quindi giove e nettuno sono lì anche loro in un momento quasi distasi diciamo in cui sono molto lenti la luna come vi dicevo all'inizio della settimana è in toro e come in toro anche urano a 16 gradi mentre marte è a 25 gradi dei gemelli e rimane sostanzialmente intorno a quei gradi arriverà alla fine della settimana a 24 gradi quindi solo un grado di retrocessione per per marte nei gemelli e ora vediamo come la posizione di questi pianeti influenza i vari segni zodiacali cominciando come sempre con la riete il primo segno dello zodiaco in ariete non ci sono in questo momento pianeti di transito fino a poco tempo fa c'era giove nella prima decade della riete ma ora è tornato indietro è rientrato nei pesci dove rimarrà fino alla fine dell'anno negli ultimi due gradi dei pesci quindi tutto sommato giove ha comunque ancora un certo impatto su chi è nato nei primi due giorni del segno ma presto rientrerà in ariete quindi porterà benefici a tutti gli arieti e anche a tutti i segni di fuoco perché giove è considerato il pianeta della fortuna dell'espansione e dell'ottimismo in questo momento gli arieti magari si sentono un po orfani proprio perché giove li ha abbandonati ma gli arieti hanno ancora il sostegno di marte e di saturno quindi non possono certo lamentarsi l'unico problema che potrebbero avere gli arieti sono quelli della terza decade perché hanno ancora plutone in quadratura quindi plutone in aspetto dissonante a chi è nato nella terza decade e sappiamo che l'effetto di plutone è uno che è abbastanza dirompente anche se sotterraneo è un po nascosto e plutone diciamo per prendere bene i transiti negativi di plutone bisogna lasciare andare e non aggrapparsi al passato ma lasciare che alcune cose finiscano si dissolvano perché è la promessa della rinascita plutone porta sempre con sé la promessa della rinascita però bisogna prima passare dalla fine dalla morte quindi ovviamente una morte simbolica molto spesso però bisogna lasciare andare e non aggrapparsi con tutte le forze a quello che magari pensavamo di avere ecco quindi il consiglio agli arieti è lasciatevi andare mollate la presa e permettete alla vita di rinnovarvi del resto quelle della terza decade hanno anche il supporto di marte che è combattivo e quindi da e tra marte è il pianeta governatore dell'ariete quindi da sicuramente una mano per reagire e combattere come si deve da veri guerrieri arietini la seconda decade ha il supporto di saturno che aiuta a mirare lontano e a portare avanti degli obiettivi di lunga durata quelli della prima decade sono un po effettivamente senza supporti sono sprovvisti di supporti ma non subiscono nemmeno particolari dissonanze astrali per cui sono abbastanza liberi di sperimentare di fare non hanno supporti ma non hanno nemmeno ostacoli dal punto di vista emotivo i transiti della luna sull'ariete questa settimana sono abbastanza positivi soprattutto da mercoledì a venerdì mentre il sabato e la domenica con la luna in cancro che è un segno dissonante all'ariete potrebbero emergere delle lamentele delle insicurezze motivi per recriminare ma sono cose di poco conto che spariscono già con la settimana seguente e vediamo come va la settimana per il toro che appunto inizia in grande con la luna nel suo segno dove poi si verifica il plenilunio martedì però il toro vede anche in questo momento l'opposizione dei pianeti veloci mercurio venere e del sole inoltre c'è anche la quadratura di saturno che colpisce sempre la seconda decade dove stanno avvenendo un po tutti questi aspetti e quindi soprattutto i tori della seconda decade potrebbero sentirsi un po troppo sollecitati un po troppo sotto pressione un po stressati però è sicuramente anche un momento molto interessante e molto utile proprio per verificare se siete sulla buona strada o se invece avete sbagliato qualcosa e ovviamente siete sempre in tempo a rimediare quindi può essere veramente una cartina attorno a sole questo momento molto importante per voi tori soprattutto se appartenete alla seconda decade quelli della prima decade sono un pochino più sprovvisti anche loro di aspetti interessanti quindi vivono un momento un po più tranquillo rispetto ai tori della seconda decade è un po tutti i pianeti sono concentrati tra seconda e terza decade quindi per forza di cose per tutti i segni le prime decadi sono molto più tranquille rispetto alle seconde e alle terze decadi la terza decade però invece gode di parecchi supporti soprattutto quello di plutone di giove e nettuno e questi sono transiti importanti e di lunga durata che sicuramente riescono a contrastare anche i transiti dei pianeti veloci che tutto sommato durano pochi giorni e che riguarderanno la terza decade soprattutto nella seconda parte della settimana per quanto riguarda le motività ebbene per i tori la settimana non è forse il massimo la luna è nel vostro segno nei primi tre giorni della settimana e questo intensifica le vostre emozioni però abbiamo visto che sono sollecitate anche da transiti negativi per cui potrebbero diventare un po troppo forti un po troppo intense ma sicuramente il tutto migliora soprattutto durante il weekend con una luna in cancro che è un segno a voi affine e quindi chiuderete la settimana in bellezza dopo un pochino di turbamenti emotivi per i gemelli della prima decade è un periodo tranquillo forse un pochettino noioso per quelli della seconda decade è invece un periodo molto costruttivo e quelli della terza decade un po come per tutti i segni dove si concentrano la maggior parte degli aspetti ebbene ci sarà un po da combattere perché cari gemelli voi ospitate marte nel vostro segno e marte è il pianeta guerriero no quello un po aggressivo sì non si fa mettere i piedi in testa però insomma a volte sollecita delle reazioni un po troppo bellicose e in questo momento siete particolarmente suscettibili voi della terza decade perché ricevete anche la quadratura di giove nettuno quindi probabilmente vi impunterete in modo particolare sulle vostre ragioni sulle spesso anche sulle vostre ideologie e insomma sappiamo che siete bravi con le parole e bravi a discutere a convincere gli altri però sarete un po troppo vehementi quindi state un po attenti anche al vostro modo di esprimervi che non sia troppo aggressivo dal punto di vista emotivo la settimana va piuttosto bene la luna è in segni a voi neutrali oppure entra nel vostro segno proprio dalla sera dal pomeriggio di mercoledì fino alla sera di venerdì quindi la luna anche vi aiuta sicuramente dal punto di vista emotivo a entrare un po più profondamente dentro i sentimenti dentro più che i pensieri perché sappiamo che i segni d'aria pensano e non amano molto sentire sprofondare nella percezione emotiva però sarà importante con la luna in gemelli ecco cercare proprio di sentire di capire che cosa provate davvero il cancro è in un periodo d'oro quasi magico i pianeti veloci nello scorpione sono sicuramente un grande aiuto inoltre giove nettuno sono anche positivi per il cancro e tutto questo fa quasi dimenticare l'opposizione di plutone che in questo momento sta sempre colpendo la terza decade però per l'appunto la terza decade in questo momento è aiutata anche da giove da nettuno quindi da un pizzico di fortuna sicuramente e anche da tanta creatività da anche dalla capacità di trasformarsi inoltre venere entrerà nella terza decade già da martedì mercoledì e poi sarà seguita da mercurio e poi anche dal sole quindi la terza decade sicuramente sarà sostenuta dal passaggio di tutti questi pianeti la seconda decade è anche sostenuta soprattutto da urano che aiuta i nativi a diventare molto attivi molto efficaci efficienti e poi anche dal ovviamente la vitalità del sole dalla comunicazione di mercurio mentre la prima decade ha già ricevuto questi supporti la settimana nascorsa e in questo momento si può godere un pochettino di riposo e rallentare magari il ritmo senza sentirsi particolarmente in colpa ebbene cari cancri anche per voi emotivamente la luna vi aiuta perché o è in segni a voi positivi oppure neutrali e quindi anche emotivamente vi sentirete piuttosto calmi tranquilli la luna infatti fino a mercoledì è nel toro un segno a voi amico entra poi in un segno neutro i gemelli e finisce nel vostro segno quindi sabato e domenica la luna è nel cancro e vi permette di sentirvi particolarmente a vostro agio arriviamo agli amici del leone che in questo momento sono sostenuti solo da marte è un bel sostegno perché marte da forza di volontà da coraggio da capacità di reagire ed è quello un po che vi ci vuole cari leoni perché in questo momento subite anche parecchi parecchie tensioni create dal dagli aspetti dei pianeti in particolare l'opposizione di saturno e di la quadratura di urano che colpiscono la seconda decade e i pianeti veloci che colpiscono invece la seconda decade e la terza decade quindi prima decade è un po più libera tranquilla diciamo già superato le piccole crisi magari settimana scorsa proprio piccole piccole problematiche conflitti relazionali mentre adesso tocca alla seconda e alla terza decade quindi fatevi forza fatevi forti di una bella dosi di pazienza perché è quello che vi ci vuole a livello emotivo la settimana inizia in modo un po un po forte un po veramente con la luna in toro e oltretutto la luna piena in toro ebbene può far emergere le cose su cui voi dovreste proprio lavorare dovreste concentrarvi per migliorare soprattutto le relazioni ma anche cioè tutti i tipi di relazioni quelle interpersonali ma anche quelle lavorative e vedrete che le cose già migliorano a partire dal pomeriggio di mercoledì quando la luna in gemelli un segno a voi favorevole e potrete cominciare a sintonizzarvi un po di più con le altre persone intorno a voi agli amici della vergine la settimana non va tanto male allora è vero ci sono nettuno giove in opposizione questo riguarda soprattutto la terza decade però i vergini hanno anche un bel aspetto di plutone un bel aspetto di urano un bel aspetto da parte di sole mercurio e venere quindi sono sicuramente più i pro che i contro per le vergini come per tutti i segni la prima decade è abbastanza sprovvista di supporto però appunto non per questo va male anzi direi che c'è un bel tran tran quotidiano che prosegue senza scosse per la seconda decade ci sono soprattutto il supporto di urano del sole di mercurio e di venere quindi è invece molto stimolata a dare il meglio di sé e la terza decade ha sia dei pro e dei contro perché vero nettuno giove in opposizione possono essere da stimolo per cercare di capire se si è presa la strada giusta se quello che si è scelto nel lavoro nello studio è proprio quello che si vuole fare quindi sicuramente un periodo molto fertile di riflessioni di stimoli dal punto di vista emotivo le cose vanno molto bene nei primi tre giorni della settimana e anche nel weekend mentre i giorni di mezzo diciamo dal mercoledì sera al venerdì con la luna in gemelli ebbene potreste avere qualche momento di emotività un po' troppo un po' troppo carica per le bilance un po' come per i cancri la terza decade è sempre sotto pressione da parte del transito dissonante di plutone però la bilancia in questo momento altri supporti come il bel aspetto di marte che dà quindi forza coraggio risoluzione il bel transito di saturno che riguarda la seconda decade che dà voglia di andare avanti con costanza e perseveranza lungo la propria strada quindi le cose vanno abbastanza bene soprattutto da quando non avete più care bilance l'opposizione di giove state sicuramente vivendo il periodo con più leggerezza dal punto di vista emotivo questa settimana non va affatto male forse il weekend ebbene vi sentirete un po' punti sul vivo magari in qualche relazione quindi attenzione il weekend a cercare di circondarvi di persone che sapete con cui sapete che vi trovate bene invece sicuramente molto buone le giornate di giovedì e venerdì con la luna in gemelli quindi un segno a voi alleato eccoci allo scorpione che sappiamo anche lo scorpione essere stato un po' vittima di transiti un po' pesanti insomma da un bel po' di tempo però in questo momento è ringalluzzito dal passaggio nel segno di mercurio di sole di venere quindi sicuramente gli scorpioni si stanno rivitalizzando in questo momento inoltre godono anche del bell'aspetto oltre che quello di plutone che è di lunga data anche quello di giove nettuno che ovviamente riguardano la terza decade la seconda decade si sta rivitalizzando mentre la prima ha già passato questo questo passaggio rivitalizzante dei pianeti veloci e quindi è piuttosto tranquilla dal punto emotivo le prime tre giornate con la luna in toro quindi in opposizione con la luna piena potrebbero essere un po' vivaci un po' di conflitti potrebbero esserci ma sicuramente sarà dalla dalla sera di mercoledì tutto molto più tranquillo e il weekend lo chiudete in bellezza con una luna in cancro quindi una luna in un segno amico che vi fa ritrovare la serenità il sagittario è uno di quei segni che non si lamenta molto di solito però in questo momento riceve anche qualche dissonanza astrale un po' forte soprattutto la terza decade come sempre come al solito come abbiamo visto questa settimana per tutti i segni le terze decadi sono quelle un po' più sottoposte a stress ebbene anche per il sagittario così perché c'è l'opposizione di marte dai gemelli e la quadratura di giovane nettuno dai pesci per cui ecco chi appartiene alla terza decade potrebbe sentirsi un po' abbacchiato questa settimana meglio le seconde decadi e chi è nato nella prima decade questi ultimi perché non hanno praticamente non subiscono aspetti di sorta di nessun tipo e invece quelli della seconda decade hanno il supporto di saturno che permette loro di mirare ai loro obiettivi di andare avanti con perseveranza senza farsi troppo distrarre dal punto di vista emotivo la settimana anche non è un gran che perché diciamo che soprattutto la parte centrale della settimana quella da mercoledì pomeriggio a venerdì sera con la luna in gemelli va ad aggravare diciamo l'opposizione di marte per cui ci si sentirà un po' nervosi quindi attenzione alle provocazioni cari sagittari cercate di non raccoglierle perché potreste essere particolarmente suscettibili soprattutto nei giorni centrali della settimana il capricorno è tornato a essere uno dei segni più sostenuti dai pianeti abbiamo avuto un periodo di qualche mese dove invece c'erano un po' di passaggi fastidiosetti un po' birichini diciamo così mentre adesso con da quando giove è tornato nei pesci è tornato insomma a dare una mano anche al capricorno quindi giove e nettuno stanno sostenendo la terza decade del capricorno dove è presente plutone che sta facendo un lavoro di scavo molto profondo e anche aiuta a sentirsi più sicuri di sé più consapevoli delle proprie ambizioni e delle proprie risorse la seconda decade riceve sempre il bel aspetto di urano quindi urano tra l'altro uno dei pianeti governatori del capricorno e quindi la seconda decade in questo momento è molto sollecitata ad agire a darsi da fare a essere molto molto attiva come al solito la prima decade invece è abbastanza scevra da movimenti particolari però appena ricevuto l'aspetto positivo dei pianeti veloci che stanno attraversando lo scorpione e quindi sicuramente adesso anche la prima decade del capricorno può riposarsi senza sentirsi in colpa perché si è già data da fare notevolmente la settimana scorsa nelle scorse settimane ebbene ora il sole mercurio e venere stanno indirizzando i loro effetti benefici proprio verso la seconda e la terza decade del capricorno quindi diciamo che c'è un buon movimento riguardante il capricorno un bel movimento astrale e ovviamente questo poi si riflette di solito anche nei movimenti dell'esistenza a livello emotivo la settimana inizia molto bene con la luna in toro quindi sicuramente dovreste approfittare del periodo da lunedì a mercoledì pomeriggio per fare un po tutto quello che vi preme in questa settimana perché sono i giorni le giornate più favorevoli poi il gemelli quando la luna in gemelli che è un segno neutrale nei vostri confronti diciamo non pone problemi di sorta mentre invece quando la luna in cancro durante il weekend potreste avere qualche alto e basso quindi avere un po degli sbalzi emotivi l'acquario che si era rimesso in sella ultimamente negli ultimi mesi grazie ai begli aspetti di marte saturno e giove in questo momento con ben venuto a mancare il supporto di giove e marte saturno ci sono sempre a dare manforte all'acquario però il passaggio dei pianeti veloci nello scorpione è sempre un momento critico per l'acquario quindi potreste avere un po di abbassamento dell'umore un pochettino di sconforto in qualche momento ovviamente si tratta di cose molto transitorie nulla di grave però appunto può incidere un po sull'umore e anche su come voi reagite agli input dall'esterno quindi anche voi fate attenzione a non reagire troppo male emotivamente tra l'altro la settimana non inizia benissimo con la luna in toro quindi in un segno a voi dissonante e anche la luna piena quindi potrebbe far emergere le vostre inquietudini ma già da mercoledì pomeriggio mercoledì sera le cose vanno molto meglio con la luna in un segno a voi affine i gemelli fino a venerdì sera per concludere poi la settimana con una luna in un segno neutrale quindi acquari il consiglio di non strafare di seguire i binari e di non improvvisare troppo come amate fare voi ed eccoci arrivati all'ultimo segno i pesci che in questo momento sta vivendo un periodo di grazia proprio per via del passaggio dei pianeti veloci in un segno alleato quello dello scorpione un altro segno d'acqua come i pesci quindi sicuramente la seconda e la terza decade sono quelle che ricevono in questo momento i favori degli astri quindi a livello relazionale a livello di sentirsi bene di sentirsi nella propria pelle di sentirsi più fortunati anche perché non dimentichiamo che è rientrato anche giove nel vostro segno e quindi sicuramente un po di fortuna ve la porta oltre a questa sensazione di ottimismo di apertura verso la vita verso un po tutte tutti gli eventi che succedono intorno a voi a livello emotivo poi la settimana va piuttosto bene con una luna in toro quindi in un segno a voi favorevole solo nella parte centrale della settimana la luna in gemelli potreste farvi venire fuori qualche motivo di lamentela o dei piccoli conflitti relazionali con le altre persone ma niente di grave e poi la settimana si chiude con una luna in cancro quindi in un segno sempre a voi a fine e per cui non c'è nulla di cui lamentarsi davvero cari pesci e con questo io ho concluso anche per questa settimana vi aspetto settimana prossima e vi auguro comunque un buon plenilunio in toro e un'ottima settimana e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi